Allora, Giancarlo, eravamo arrivati a te con le riflessioni. Che cosa porti a casa di questa esperienza, di questa notte? Allora, cosa porto a casa io è la certezza che tanti hanno dei compiti a casa da fare. Sicuramente c'è Berlusconi che deve rinforzare la classe dirigente di Forza Italia perché a questo punto Forza Italia deve riaffermarsi, deve fare un lavoro e deve fare un ripensamento anche della sua idea di partito. Il Presidente della Repubblica ha i compiti a casa perché dovrà capire cosa fare alle prossime interrogazioni e i consulti che dovrà avviare. Non sono negativo sulla governabilità, cioè non affermerei proprio l'ingovernabilità perché c'è il 70% del Parlamento che si rinnova totalmente e c'è tutta l'intenzione di quelle persone di rimanerci a lungo lì. Quindi tu dici dovranno trovare una regola? Necessamente. Evitare di andare a rivotare.